Ah ragazzi, che comodità e soprattutto che ergonomia, grazie a questi bellissimi braccioli memory foam. Volete scoprire che cosa sto utilizzando? Ci vediamo nel prossimo video. Bene ragazzi, questo supporto che sto utilizzando è il Coachmaster Sycon, ed è uno strumento che Nerditech, un'azienda tedesca, ha costruito proprio per tutti coloro che amano rilassarsi sul divano, ma che non possono rinunciare o al piacere di giocare con mouse e tastiera, oppure proprio lavorare in smart working. Come funziona? Questa semplice board si appoggia su questi comodissimi cuscini ergonomici in memory foam, dove potete vedere lateralmente, ve le allargo così potete notarle, delle tasche, delle comode tasche morbide, dove potete appoggiare delle bevande o del cibo o anche i vostri device. La tastiera all'interno contiene circa 6 porte USB, dove potete connettere oltre alla fantastica tastiera e al fantastico mouse, anche tablet o smartphone. Con questo supporto che esce da sotto, ovviamente, perché i fili si riescono ad organizzare all'interno di questa tastiera, semplicemente svitandola con un cacciavite a stella, abbiamo questo attacco che ci permette di poter connettere tutta la tastiera e quindi tutta la board, e quindi il mouse e la keyboard, direttamente al pc dal quale vogliamo giocare oppure vogliamo lavorare. Nella scatola vi usciranno, oltre che i cuscini, anche un fantastico e comodo poggiamouse, non vi uscirà la tastiera e il mouse che sto utilizzando. Mi dispiace per voi, ma queste ve le dovete comprare. Non ci resta che noleggiare o acquistare questo bellissimo supporto sul nostro sito www.webidoo.store e giocare o lavorare direttamente dal vostro divano.